Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è 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 www.mesmerism.info Non sono capta di QTSS Il nostro canale è www.mesmerism.info Quando Moisés lo sovrappano, i povoli israeliani e i povoli escolliti, i povoli esegypti e i canali, quando Moisés lo sovrappano, lo sovrappano, e quando Moisés lo sovrappano, lo sovrappano, e quando lo sovrappano, lo sovrappano, come a farlo, inauditos, e quando lo sovrappano, o que é que o Moisés lo sovrappano, quando morre no campo, o que é que o Moisés lo sovrappano, o que é que o Moisés lo sovrappano, e quando morre no Egipto, numa parada de desespero, o que é que ele sovrappano? Como disse, o que é que o Moisés lo sovrappano, E' un pocchino come niente, non è pe diyor, al suo potevo di dire che altra, non è altra, non lo so? Non è vero che questo, non è verificato. Questo è un povo, proprio il povo scolgido, la terra santa ha scolgida E non lo so, ma anche lui è riuscita a le diverse da iglesiae, a l'Evangelio di San Luca. Non lo so, non è vero che il testamento, non è vero che ci sono a sperimentali, non li ho capito di persone, non l'Araifuikmara. I problemi di forbade un problema e non so che rispondevano poi loro. E se vuole un problema di quello che accadeirà, sta innamorando un grande esperanza e per fare la libertà. E per lui che la città ci stanno in quanto siamo fati con i problemi. Perché il tempo è difficile, il tempo nella cocco, il tempo è netto, in conflicto o il tempo, e lì c'è sempre di esperanza e sempre di esperanza. Anche adesso si oggete basta con il deserro, guarda, guarda gli uomini, guarda gli�� tha, guarda gli uomini, guarda gli uomini, guarda gli uomini. Guarda gli uomini e guarda gli uomini, guarda gli uomini, guarda gli uomini. All'interno del deserto, ma ha dovuto essere i Tammi, che ha dovuto essere il cammino il suo santo. Il a sempre della terra in Egitto, quando gli stessi chiedono di metà un i metri, i crei è necessario il cibo. C'è anche anche il cibo, il cibo deve essere più vero. All'interno dei sarili ho, e si èihin a tentare tutto il territorio, ma come presenti e ci sono alle persone, ma come sono le persone. Se si si non mi sono scendere, non mi sono scendere, non mi sono scendere. Il momento che si si vede a un'occhio e si si vede a un'occhio, non si vede a un'occhio. Come dice sempre una separazione, se si 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 senti sicuro, se si senti sicuro anche se si senti sicuro. ma non è la presenza. Non è nessuno che ci sta mettendo, non è nessuno che ci sta mettendo. E' il deserto la mettendo nella boccella. Ma lo dice che il deserto non è il deserto. Pratico, preparate il Natale. Preparate il il nostro Natale. con più di Natale mancligo, lievore e nero preparati ci sono giù di loro, lievore e c'è la città e quindi ci siano pescaldi in un po' deserto è stato il momento della vita di riparare il suo avvio momento di purificazione purificazione Whats. se si siano pensi a la ricerca nel mondo nostri, se si siano si si siano pensi a la posizione social Nel loro scegliere il stato giudice, bisogno di riquezza, bisogno di come mangiare un momento che ci sono La loro scegliere lo scegliere, e questo lo scegliere, si battevi, non lo scegliere Non ci posso fare in questo momento e ciò che aiutano tra loro molto e la loro sentire Si chiuderva il loro scegliere, poi non concentra la loro scegliere Allora da quella delle persone, da quello che di questo, da quella delle persone, da quella delle persone, da quella delle persone. Dovete appena vedere come loro, come loro, come loro, come loro, come loro come loro, come loro si è state uspravante. Grazie per aver guardato il nostro canale. Volevo fare ci sono termine tra chiama, lui e lui servea, lui come ha fatto 먹는 risultate, lui come a seguire i figli, non si chiama il Nordico, in modo che sia chiaro, e che ci sono stati a podere. La nostra vita è una ragazza, per quanto riguarda i Giori, Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito corso gratuito è www.mesmerism.info Ilo avuto per il Natale del Natale che dice, il ministro dice, il suo venuto alla presidemia del Paimo Shaio. Voi venuto il Paimo Shaibbi, nel Paimo Meta e Juven. Nel Paimo Shaibbi di Colmera, nel Paimo Shaibbi di Comoro, che si viva il Paimo Shaibbi di Forti e Juan Huveli! Nel Paimo Shaibbi ha venuto fortemente. La presidia dice, Gesù, è il prezèpio di Belén. Gesù è iniziato. Quindi con il prezèpio è iniziato a non fare una approfondazione con Gesù Cristo. Quindi la parola, i ragazzi sono in prezèpio. Non sono iniziato, non sono iniziato, non sono iniziato, non sono iniziato. Non è iniziato, non sono iniziato, ma avviene. Perciò che viveva iniziato a la pannizza, 25 anni si vive iniziato a la pannizza. oi ita celebra natal feriado e adil e funcione serà feriado o totu bani nel município ma i bai lori moda barbara lori ha haan barbara lori tua barbara bai henna bai haan, hemo ma i be missa la bai igreja la bai reza te teves moslai ma lakera ida ne forra non infalli ma i taccata ita ten ghiadigiano e stilo ita ten ghiadigiano e comportamento serà ne ha caracalacorri Natal nel tempo ma raù il figlio di Gesù Cristo maia mondo a tua soro maluco ita ita ha soro maluco di giusmane a tecnici da la maromagnia tamai ita eman ya dalla ita idea cacchia ita idea de calo ita tem corrigida tem que radia dalam balone vesti cleo tu sai se boba tumbo versai se da balocida dalam balone vestido cabello ita ne hallo che ne comportamento ita ne famiglia ne molisa barak umalarang la la roma feton honan ma un'alien rasek fechaumana e rasek se da dame malu se da perdoa malu liek ikwaan liela servibotida forte aas 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 peikus mai diek liu manan razao e lakon maun alien lakon familie lakon emma maluco sire danela los se da diyan etanea dalam dalam morisnia hande sema cristão han esen jesus ni emma han esen emasrani dalam ni dane tenki lorita baha suru maluco jesus cristo dalam makedanea ita tenki dame malu tenki akribi tene salan sire tenki purfica etanean tenki transforma etanean tenki halo konversaun 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 o maluco sire mak lorita baha suru maluco jesus cristo maromak filho nebe atu haluang sai emma tamo ne maluco sire san joan konvidaita da leidata hadia naine dala halos dalang sire nebe se kliuktuun sai rai nebe sikuak ma ita takaba ita ne atu hatudukatak ita ne haalok rumanebe sidaguk diak sidaguk dami maluco itne maluco sire ma ita buka malu ba adventu dene ihah valor adventu dene folemboot kuandu ita bele hadia etene haalok sire buka atu dami malu buka atu haalibur malu filhafale buka atu perdua malu filhafale simu malu filhafale hanesanfamilia lasfamilia leitma behehoye mohtudu tenke diak malu nebe ita niya misa iya natal itane lorik solok botma ita ita bele ha suru malu ho jesus cristo kuandu ita bele ha suru malu mollo festabot natal mai adventu dene ita hadia ita niya dalan tuir na inya dalan khusik ita niya dalan sirena be ita rasi hakiak dalan mundu niya atu ita tamabar na inya dalan i hadian dalan nabese kelewb tuasai